Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia. Voi lo sapete, io amo particolarmente il calcio, mi piace molto la storia del calcio e se non la racconto è semplicemente perché Cichilo fa molto meglio di me e quindi non vorrei paragoni con buffa perché ovviamente ne uscirei sconfitto su tutta la linea. Ci sono però alcuni casi in cui la storia del calcio diventa la storia del mondo, della storia con la S maiuscola e come sempre accade quando lo sport è così intersecato con la vita comune, con la vita politica, il calcio diventa una perfetta rappresentazione di ciò che una parte almeno del popolo pensa di un periodo politico. La storia di oggi è proprio questo, è la storia di un calciatore, Mattia Sindelar, che negli anni 20-30 era considerato uno dei tre migliori attaccanti del mondo. Insomma, diciamo come se facessi la storia di Ibrahimovic o di Messi, di Cristiano Ronaldo, vediamola così, e che poi divenne nell'ultimo periodo della sua vita invece un simbolo politico di quella resistenza che una parte degli austriaci oppose all'annessione alla Germania italiana, all'Anschluss del marzo del 1938. Un uomo che non poteva esprimere politicamente le sue idee, ma che lo fece laddove gli era più consono, cioè sul campo di calcio. E lo fece in maniera talmente forte da essere oggi considerato uno dei simboli di quella resistenza, oltre che il calciatore e lo sportivo austriaco più importanti degli ultimi cent'anni. Questa è la storia di Mattias Sindelar, detto carta velina. Per raccontare la storia di Sindelar potremmo partire dalla fine, potremmo partire da quella partita dell'unificazione che è probabilmente il simbolo più grande della sua storia. Perché partita della riunificazione? Beh, perché siamo nel 1938, la Germania nazista sta crescendo, ha stracciato il Trattato di Versailles, ha rimilitarizzato la Renania, ha visto che in effetti gli altri stati non si oppongono alla sua crescita. E così Hitler ha deciso di fare un altro passo, di rioccupare l'Austria, da cui peraltro proveniva, riunendola al Terzo Reich. In realtà molti in Austria appoggiano la cosa, l'idea di riunire i popoli tedeschi in un'unica nazione sembra la cosa migliore, ma molti invece si oppongono, e molti di coloro che si oppongono vivono a Vienna, una città decisamente più multiculturale e anche multipolitica, se così vogliamo dire, rispetto al resto dell'Austria. Tra gli oppositori a questa riunificazione c'è anche quello che all'epoca era il calciatore austriaco più famoso al mondo, cioè proprio Matthias Sindelar. In realtà Sindelar non era austriaco. Come moltissimi degli eroi d'Austria, non era nato in Austria, ma era in realtà un figlio di quel gigantesco impero multiculturale che era l'impero d'Austria-Ungheria, perché era nato nel 1903 in Bohemia. Dalla Bohemia, tre anni più tardi nel 1906, si era trasferito proprio a Vienna, città cui rimarrà per sempre legatissimo, per motivazioni molto pratiche, cioè il padre si era trasferito per cercare lavoro. Una volta a Vienna i suoi avevano iniziato a vivere una vita molto modesta, che purtroppo era peggiorata quando il padre era partito per la Prima Guerra Mondiale e si era definitivamente incrinata, quando il padre purtroppo era morto combattendo contro gli italiani sull'isonzo, cosa che aveva spinto Sindelar a cercare un lavoro per mantenere la madre e i fratelli. Poteva essere la fine di una carriera, poteva essere la fine di un ragazzo che fin da giovanissimo aveva dimostrato di saper giocare a pallone come nessun altro intorno a lui. Ma le cose, fortunatamente per l'Austria, non erano andate così. Ora, l'Austria di cui parliamo è un'Austria in cui il calcio si era diffuso molto rapidamente, come in tutto il resto d'Europa era arrivato dall'Inghilterra, insieme ai commessi viaggiatori, insieme alle banche, insieme ai soldi, che si erano trasferiti sul continente e qui avevano portato insieme a loro, nella loro valigia, anche gli sport inglesi, tra cui il calcio molto rapidamente era stato quello che si era diffuso di più. In Austria si era diffuso molto rapidamente, come dicevo, soprattutto a Vienna, tanto che quando all'inizio degli anni 20 nacque il campionato nazionale austriaco, in realtà era praticamente un campionato viennese, dato che la quasi totalità delle squadre che vi prendevano parte erano squadre proprio della capitale. Tra queste squadre ne spiccavano due. Una era la squadra del popolo, era la squadra fondata dagli operai, che alla fine del loro lavoro si riunivano per giocare a pallone, dai migliori di loro, che alla fine avevano deciso di creare una squadra e gli avevano dato come nome il Rapid Vienna. Dall'altra parte c'era un'altra squadra, una squadra di cui colorano il bianco e il verde, una squadra che era la squadra della borghesia, della borghesia medio ricca, tanto che si diceva che i suoi tifosi si riunissero più che sul campo di calcio, nei caffè, nei caffè che all'epoca erano un po' il simbolo della moda viennese. Una squadra che si chiamava Amator Vienna, ma che nel 1926 sarebbe diventata l'Austria-Vienna. Due squadre che peraltro ancora oggi si contendono la massima serie austriaca, insieme ovviamente ad altre squadre che sono poi sorte nel tempo. Queste due squadre erano ancora il perno del campionato austriaco nel 1938, quando la Germania, una volta riunificata a Seel Austria, una volta fatta l'Anschluss, insi mise a cercare dei simboli di quella riunificazione, e uno dei simboli non poteva che essere sportivo. L'idea era quella di giocare una vera e propria partita che avrebbe mostrato le due squadre fondersi fra di loro. Inizialmente l'idea era di creare proprio delle squadre misse tra la squadra tedesca e la squadra austriaca, ovviamente preparando quella che avrebbe dovuto essere la grande nazionale, che negli occhi, negli idee di Hitler, avrebbe dovuto letteralmente dominare il calcio europeo. Gli austriaci però, guidati da Sindelar, si opposero. Dissero che se dovevano giocare una partita della riunificazione, doveva essere l'ultima partita che avrebbero giocato come una nazionale a parte, come l'Austria, e per questo chiesero di scendere in campo con i loro colori, i calzoncini bianchi e la maglietta rossa. I nazisti accettarono, a patto che gli austriaci perdessero. Doveva essere una sconfitta da poco, un 1-0 molto semplice, un qualcosa per sancire la vittoria tedesca, alla fine della quale gli austriaci sarebbero proprio entrati nella nuova nazionale. Ma ecco, gli austriaci non erano tanto di quell'idea, e a non essere tanto di quell'idea, era ovviamente il loro capitano, Matthias Sindelar. Ora, come vi dicevo, Sindelar avrebbe potuto non giocare mai a pallone, morto il padre inizia a lavorare, e in questo modo si allontana dal calcio. Fortunatamente per lui il calcio lo va a cercare, e lo va a cercare nella figura del presidente di una piccola squadra di Vienna, che si chiamava Lerta Vienna, il quale sente parlare di questo ragazzo, lo prende con sé a giocare, addirittura accetta che giochi senza allenarsi. E così nel 1921, nonostante il lavoro, Matthias Sindelar esordisce proprio nella massima serie, con Lerta ha appena 18 anni. Fa molto in fretta scalare le gerarchie della squadra. Nel 1923 è capitano, e nonostante un grave infortunio, e ormai che l'ha quasi fatto smettere di giocare, un infortunio almenisco, ma da cui fortunatamente si riprende, è ormai uno dei simboli dei giovani calciatori austriaci. Sfortunatamente per lui nel 1924 Lerta ha una crisi economica, è costretto a vendere i giocatori, e così anche Sindelar si trova sul mercato. Inizialmente pensa quasi di andare all'estero, di trasferirsi in Italia, a Trieste, per giocare con la triestina, ma alla fine lui, uomo del popolo, o peraltro con spiccate simpatie verso il socialismo, decide di non unirsi alla squadra del popolo, cioè Rapid Vienna, ma di unirsi piuttosto alla squadra della borghesia, che volgarmente è quella che gli offre di più, cioè appunto l'Austria-Vienna. Ed è l'Austria-Vienna, molto rapidamente diventa un simbolo. Con l'Austria-Vienna, giocherà ancora, proprio in quel 1938. In realtà gli ultimi anni della sua carriera sono stati anni incalando, Sindelar ha perso gran parte delle qualità, ma è ancora considerato uno dei migliori calciatori del mondo. Il suo stile di gioco era molto particolare, e nel primo tempo di quella finale, di quella partita dell'unificazione, lo metterà in campo con tutta la sua forza. È uno stile che è quasi moderno rispetto all'epoca. All'epoca il calcio era un calcio fatto di fisico, di calciatori grandi, possenti, che combattono per un pesante pallone, molto più pesante degli attuali, su un campo molto spesso accidentato, ben lontano da quei perfetti campi di gioco, quasi dei tavoli da biliardo, che vengono utilizzati adesso. È un calcio fisico per uomini fisici. Ma Sindelar di fisico non ha niente. È un uomo alto, magro, un uomo che è talmente leggero che viene soprannominato cartavelina. Però è un uomo che col pallone letteralmente danza. Come racconterà Vittorio Pozzo, che era all'epoca allenatore, commissario tecnico della nazionale italiana, quando vedere giocare Sindelar era come vedere un uomo ballare con il pallone. Era in grado di accarezzarlo per fargli superare i suoi avversari. Era in grado di dare dei piccoli colpi che facevano passare quel pallone tra le gambe di coloro che cercavano di fermarlo. Oppure riusciva a dribblarli in tutta velocità prima che questi con il loro fisico gli fossero addosso. Sindelar, cartavelina, era diventato uno dei simboli del cosiddetto Wunder Team, il team delle meraviglie, come era soprannominato negli anni 30 proprio l'Austria, per questo gioco incredibile, così moderno, fatto di piccoli passaggi veloci, quasi come un po' il tiki-taka, che si arrivano a superare gli avversari per arrivare rapidamente in porta. laddove talvolta era Sindelar a segnare, talvolta laddove era lui a mandare in gol i suoi compagni con dei cross precisissimi. Quel primo tempo, quel primo tempo della partita dell'unificazione sarà una gigantesca sinfonia di Sindelar. Si raccontò che per tutti quei primi 45 minuti da solo irrise tutta la nazionale tedesca. Attaccava, driblava, faceva dei tunnel agli avversari, addirittura arrivava fino alla porta, quasi saltando anche il portiere solo per poi fermarsi e non segnare. Quasi come a dimostrare che la nazionale tedesca, cheppure era arrivata in semifinale ai mondiali del 1934, esattamente come l'Austria, era una nazionale da poco, una nazionale che lui avrebbe potuto fare a pezzi quando voleva. Sugli spalti, ovviamente, i grandi gerarchi nazisti non potevano che schiumare di rabbia, anche perché più Sindelar giocava bene, più Sindelar irrideva i tedeschi, più dagli spalti si levavano alte le grida. Osterreich, Osterreich, scordo di averla pronunciata bene, cioè Austria, Austria, che in una partita che doveva sancire l'unificazione, ovviamente non era la cosa che i tedeschi avrebbero preferito sentire. L'Austria era anche il nome, ovviamente, dell'Austria-Vienna. Austria-Vienna, nella quale Sindelar, come vi raccontavo, era progressivamente diventato uno dei simboli del calcio europeo. Proprio con l'Austria-Vienna, aveva segnato alcune delle pagine più importanti della sua storia. Quella squadra l'aveva letteralmente guidata a una lunga serie di scudetti, ma soprattutto l'aveva guidata al diventare una delle squadre più importanti in ambito internazionale, tanto da portarla a vincere più volte quella che potremmo dire essere l'antenata della Coppa Campioni, cioè la Coppa dell'Europa Centrale. L'Austria-Vienna era diventata uno dei simboli di un calcio che adesso non c'è più, calci in cui si scontravano squadre con dei soprannomi incredibili, come il Bologna, squadra italiana che, proprio per aver vinto la Coppa dell'Europa Centrale, venne soprannominata la squadra che tremara il mondo fa, e a cui peraltro, a cui allenatore era dedicata un'altra pillola di calcio che vi metto in descrizione, lì un pochettino diversa, ma vedremo, se volete andare a recuperare, ve la metto in descrizione. Ad ogni modo, l'Austria-Vienna non fu ovviamente che uno dei palcoscenici calcati, chiedo scusa da Sindelar, quello per cui divenne maggiormente legato era ovviamente la nazionale. Nonostante ne fosse diventato uno dei simboli, in realtà il rapporto tra Sindelar e la nazionale austriaca non era stato sempre così facile, tutt'altro, anzi, era stato inizialmente molto problematico perché benché vi avesse esordito nel 1926 proprio per il suo gioco leggero, talvolta irridente, era stato poi alla fine messo da parte dal commissario tecnico Meisle che gli aveva preferito degli attaccanti più fisici e diciamo più adatti al gioco dell'epoca. Alla fine però erano stati i giornalisti sportivi a fargli cambiare idea. Si racconta che di fronte all'ennesima vittoria dell'Austria-Ungheria spinta proprio dal genio di Sindelar, questi avessero trovato il commissario tecnico in un bar a Vienna e lo avessero letteralmente segregato fino a quando non avesse accettato di riprendere Sindelar in squadra. E da questo momento in poi, dal 1931, le cose cambiarono perché Sindelar divenne uno dei simboli dell'Austria. Austria che smise di sentire quell'uomo estraneo al suo gioco e si modificò proprio per giocare come faceva Sindelar, diventando, come dicevo prima, il Wunder Team. Iniziò con una serie di amichevoli che semplicemente inizierono a stupire il mondo. Nella prima partita che giocò sconfissero addirittura 5-0 gli scozzesi, che all'epoca ovviamente stendono nazionali britannici che erano considerate tra le migliori del continente, sconfissero i cecoslovacchi, sconfissero gli ungheresi e alla fine addirittura andarono a giocare in Inghilterra contro il team inglese che era già stato battuto qualche volta sul continente ma che non aveva mai perso in casa propria. E l'Austria non riuscì a batterlo. Nonostante le giocate di Sindelar alla fine gli inglesi ebbero ragione per 4-3 ma tutti i giornali albionici dissero questo albionico da altri tempi dissero che la squadra che aveva veramente meritato di vincere era proprio l'Austria e così era nato un mito. Un mito che ovviamente spinse l'Austria ad essere una delle nazionali favorite per i mondiali del 1934 in Italia una delle nazionali che tutti si aspettavano potessero vincere e invece le cose erano andate un po' diversamente. Chissà se Sindelar nello spogliatoio della partita dell'unificazione aveva pensato a quel 1934 chissà se aveva pensato a quella partita di semifinale con l'Italia che ancora adesso gli austriaci dicono che avrebbero potuto vincere se l'arbitro non li avesse sfavoriti. In realtà fu una partita particolare. L'Austria l'Italia era uno squadrone diverso dall'Austria perché molto più fisico ma comunque uno squadrone che vinse i mondiali del 34 e che vincerà poi anche i mondiali del 38 uno squadrone in cui il CT Vittorio Pozzo decise di mettere addirittura un uomo fisso su Sindelar affinché non potesse toccare pallone. una squadra che compice anche un campo pesante a causa di una pesante pioggia batte 1-0 gli austriaci costringendo loro e il loro gioco leggero quasi neanche a un tiro in porta. Da quella sconfitta l'Austria non si era ripresa aveva iniziato tutto un percorso di discesa erano arrivate le sconfitte anche perché lo stesso Sindelar era invecchiato ve lo ricordo è nato nel 3 quindi ormai nel 34 aveva già 31 anni nel 38 quando si giocò la partita dell'unificazione ne aveva già 35 un'epoca in un'epoca in cui i calciatori a 35 anni ormai avevano smesso di giocare ad alti livelli così non era però per Sindelar che nonostante la sua calata in quella partita dell'unificazione come vi dicevo giocò una delle migliori della sua carriera il primo tempo era terminato sullo 0-0 nonostante tutte le occasioni create dall'Austria ma nel secondo tempo Sindelar decise di fare sul serio e così e così al settantesimo dopo aver ancora una volta driblato l'intera difesa tedesca arrivò dritto in porta e con un colpo preciso sotto la traversa portò l'Austria in vantaggio subito dopo il vantaggio iniziò a correre prima verso la tribuna occupata dai tifosi austriaci poi cambiò idea voltò si voltò dall'altra parte e andò incontro alla tribuna sotto cui c'erano le autorità tedesche festeggiando apertamente sotto di loro ma non era finita la Germania che in quella mondiale del 34 aveva poi giocato anche con l'Austria nella finalina aveva peraltro vinto raggiungendo il terzo posto la Germania non riusciva a fermarlo in nessun modo e così pochi minuti più tardi aveva ancora una volta preso il pallone e con un preciso pallonetto aveva mandato in gol un compagno 2-0 2-0 con tutto lo stadio che inneggiava a loro un 2-0 che ovviamente non andava giù ai tedeschi che furono costretti a fare buon viso a cattivo gioco ancora di più quando alla fine Sindelar decise insieme ad altri compagni di non salutare i gerarchi nazisti e di non fare il saluto nazista rivolto verso la loro tribuna nonostante le richieste della nuova nazionale nata proprio dalla Germania e dall'Austria Unita e Sindelar non si unirà a loro ma dicendo ormai di essere stanco di non riuscire più a giocare ai suoi livelli di avere problemi al ginocchio quello che era stato infortunato decise di ritirarsi giocherà dopo quella partita solo più una ventina di partite con i club ma mai più metterà piede in nazionale la nazionale seguirà il suo stesso andamento quella nazionale che doveva riunire i migliori giocatori tedeschi non fece un grande risultato e complice anche le lotte proprio fra i due gruppi non andoltre il primo turno dei mondiali del 1938 venendo sconfitto ed essendo costretta venendo sconfitta ed essendo costretta a tornare a casa Sindelar intanto aveva veramente smesso di giocare l'Austria era cambiata il calcio in Austria era cambiato ad esempio il presidente dell'Austria-Vienna che era di origine ebraica era stato costretto a cedere il club e addirittura era stato imposto ai calciatori di non salutarlo di non rivolgergli la parola proprio perché ebreo un divieto a cui Sindelar aveva risposto ridendo che lui avrebbe continuato a salutare quell'uomo che dopo tutto l'aveva trasformato nel simbolo del calcio che era nel 1939 Sindelar abbandona definitivamente il calcio e rileva il bar di un amico di religione ebraica il quale era stato costretto a cederlo proprio per le nuove leggi razziali imposte in Austria in quel bar vivrà e lavorerà per alcuni mesi una mattina però un suo amico non vedendolo arrivare al lavoro decise di recarsi a casa iniziò a bussare a suonare ma Sindelar non rispondeva alla fine preoccupato perché potesse essergli successo qualcosa sfondò la porta e in un pesante in una pesante cappa di fumo lo trovò riverso nel letto ormai morto si disse che era stato avvelenamento da monossido di carbonio a causa di una stufa o di una piccola caldaia difettosa di quella avevano iniziato a perdere monossido di carbonio avvelenando proprio il povero Sindelar secondo i vicini in effetti da alcuni giorni si sentiva un pesante odore e la cosa venne proprio associata a un semplice incidente anche se da allora in Austria molti dicono che non fu un incidente ma furono i tedeschi fu la Gestapo a trovare un modo per uccidere Sindelar l'omicidio non fu l'unica voce che girò qualcuno parlò addirittura di un suicidio fatto da Sindelar proprio come ultima forma di opposizione alla Germania nazista o chissà forse perché depresso per aver lasciato il mondo del calcio e averlo lasciato in un modo così particolare in realtà molto probabilmente fu veramente un incidente un incidente che comunque permise agli austriaci di chiedere dei funerali dei funerali che in effetti furono alla fine concessi in forma pubblica e che si trasformarono in una gigantesca dimostrazione di come non tutti gli austriaci fossero pronti ad unirsi alla Germania dei funerali a cui parteciparono secondo alcune fonti 20.000 secondo altri 30.000 addirittura 40.000 persone che seguirono il feretro fino alla sua ultima destinazione Sindelar era stato un simbolo dell'Austria calcistica e alla fine negli ultimi mesi di vita era diventato quasi un simbolo politico un simbolo di rinascita della nazione austriaca proprio in opposizione alla Germania nazista arriverà la seconda guerra mondiale arriverà la distruzione arriverà l'armata rossa arriverà l'armata rossa e gli americani in Austria ma ancora oggi Sindelar è un simbolo tanto che come vi ho detto all'inizio è stato nominato tra il principale sportivo e il primo calciatore austriaco della storia il più importante e il più apprezzato la storia di Sindelar è una storia dei suoi tempi una storia di un calcio ancora pionieristico di un calcio che se oggi è in grado di influenzare i costumi e la politica all'epoca come per l'allenatore del Bologna Arpad Weij di cui ho parlato ripeto nella pittola che vi metto in descrizione veniva purtroppo influenzato lui il calcio dalla politica cambiato dalla politica e costretto alla fine degli anni trenta letteralmente a cambiare e capovolgersi a causa della politica non sarà tra poco più tempo di calcio e come dicevo sarà tempo di guerra della seconda guerra mondiale ad ogni modo io mi fermo qua spero che questa storia vi sia piaciuta la dedico se posso a Jacopo Morroni che è lo speaker di Radio Rock la radio per cui da alcuni mesi faccio una piccola pillola di due minuti a settimana che è un grande appassionato di calcio e che mi aveva chiesto proprio perché non portassi nuove storie calcistiche e forse mi aveva anche proprio consigliato questa quindi la dedico a lui e lo ringrazio per avermela ispirata spero che vi sia piaciuta nel caso se già non lo siete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video io per il resto vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun registro ma è la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo fra due giorni con una nuova pidola di storia sarà una pidola di ucronie torneremo a parlare di Orbis a presto ciao ciao